Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Saracino, da Benessere Hypnosi, soluzione, l'ipnosi di CS, vera e professionale con la V-Maiusco. Oggi ragazzi parleremo, risponderò al signore che mi parla di balbuzia, balbuzia, balbuzia. Si può fare qualcosa, dice il dottore, per la balbuzia perché da anni è anormo, giro, cappelle senza nulla ottenere in cambio. Questo signore ha provato un po' di tutto ma senza ottenere nulla per eliminare il fatto di balbettare. Esiste un audio molto potente dal titolo non balbuzia che guiderà il tuo subcosciente da cui dipende il linguaggio, il parlare completamente al 101% se solo se eseguirà la lettera. L'istruzione è molto facile, la prova di un nonno, la prova di un pigro, la prova di un idiota. Lo so che può sembrare difficile, strano, non hai mai sentito parlare dell'ipnosi di CS, vera e professionale, adesso che lo senti magari e se l'hai provata tutte senza nessunissimo risultato ti puoi documentare, vedere di cosa si tratta e puoi magari agire e meravigliarti del potere della tua mente. Non credere a nessuna parola del sottoscritto, devi soltanto fare, iniziare e poi meravigliarti di quello che è la tua mente, il tuo subcosciente, l'88% della tua mente con l'ipnosi di CS, vera e professionale può realizzare. Però se rifletti la balbuzia nasce dal passato negativo, da ciò che ti è successo dal punto di vista emotivo quando sei il ragazzino, bambino, e finché non cancelli ciò che nel tuo subconscio gira e ti causa la balbuzia, tutto sarà ed è inutile. Perché? Perché non? Perché parli alla parte sbagliata della tua mente, alla tua coscienza, alla tua logica, al 12% della tua mente, che è la coscienza, la logica, la razionalità. Fammi tutte le domande del caso, visita il mio sito internet www.iprologiassociati.com, visita la mia fanpage su Facebook, ipnosi, ipnosi del dottor Claudio Saracino, iscriviti a questo canale YouTube, benessere, ipnosi, soluzioni di CS, dottor Claudio Saracino, e fa share e condividi con amici e parenti perché può essere quel quid, quella molla che gli può cambiare la vita, e seguimi anche sui altri social, Instagram e Twitter, benessere, ipnosi, soluzioni di CS, dottor Claudio Saracino. Un bacio e un abbraccio, amico mio, e alla prossima, ciao.